Ho già fatto il sorteggio della Champions League per la CIV in Russia e ho ricevuto dei messaggi un po' particolari da giocatori che dovranno affrontare questa competizione, no chiaramente erano dei messaggi per ridere, per scherzare. Oggi non lo so se sono stato bravo o no, chiaramente è difficile girando le palline vedere un po' creare un girone facile perché alla fine è solo fortuna e io ho avuto questo ingrato compito di creare questi gironi. È chiaro che sicuramente non tutti saranno contenti però vedremo. Secondo me quello dell'Italia è un girone comunque che è a portata dell'Italia, è chiaro è il dopo, è comunque vedere quello che si incontrerà dopo, ma questo primo girone penso che ce l'ha portata la nostra squadra. Ma è chiaro che comunque in un mondiale per vincere bisogna giocare anche con le squadre forti, è così. Quindi ci sta, io sono fiducioso e comunque l'Italia ha sempre dimostrato nei momenti di difficoltà che sa rialzarsi, dimentichiamo l'Europeo perché comunque sarà un'altra storia, passa un anno e quindi io sono fiducioso perché secondo me noi la squadra ce l'abbiamo, i giocatori, i talentuoli ce li abbiamo e ci avremo anche l'apporto del pubblico e quindi dobbiamo soltanto sperare in un grande mondiale di questa squadra.